ola leile ola ulo e va fa ulo dopo 5 minute craft che come dico sempre è il male sapete che cos'è anche il male tik tok la sera quando non riesco a dormire legacy tipo sempre ultimamente scorro così prima di dormire tik tok e si vede che ormai il feed ho laicato troppi video di cucina e mi ritrovo sempre video di gente che fa ricette fighe che probabilmente non me ne verranno neanche una ma io ovviamente cosa faccio le provo e oggi voglio provare i ceci croccanti al forno praticamente diventano come delle patatine però i ceci sono super light quindi sono patatine croccanti ma non fanno male come le patatine fritte ovviamente perché sono ceci semplicemente ceci al forno che rimangono croccanti dicono sicuramente invece verranno una chiavica ma andiamo subito a provare molto bene allora ovviamente per prima cosa servono i cuecui io questi qua della pam possono essere già cotti bolliti come ragazzi vi pare basta che siano cuecui e bisogna lavarli toglierli con la schiumetta che andiamo a togliere la schiumetta ok uno bello che subito parto con due convinta che verranno talmente buoni che uno non mi basta quando sarà sicuramente una caccata così anziché buttare una confezione ne butto due brava proprio vedete che fa questa schiuma orrenda ma che cos'è che forma è indovinate che forma fate allora questa 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 ora riscrivo una cosa cosa ho scritto vediamo se avete capito allora teglia oliata come vedete è punticcia versiamo i nostri cuecui ok e nel frattempo ho preriscaldato il forno a 200 gradi in realtà servirebbe il forno ventilato ma io già tanto col forno hanno le pietre focaie quindi vabbè spero che non comprometta qualcosa poi metto la ricetta diceva paprika ma io metto il cayun che è ancora più forse l'ho messo un po troppo e ne continuo a mettere la coerenza poi il rosmarino come non ci fosse un domani apriamo l'altro buco ecco abbonda poi un po' di sale ok e l'aglio in polvere che si indurisce sempre anche a voi lo fa vabbè l'unica cosa che si indurisce in questo periodo è l'aglio in polvere ma va bene ok che bel suono piacevole immagino in video quanto potrà essere piacevole se sono ok disposti tutti ok e inforniamo a 200 gradi per bo non dice quanto quindi quando li vedremo croccanti li togliamo anzi li giriamo magari diamo una girata e poi li vediamo qui e vediamo allora li ho lasciati circa mezz'ora se non di più bo alla fine mi sono stufata perché non vedevo cambiamenti ho messo un po' di grill e infatti qualcuno si è bruciato facciamo una prova allora è durato in bocca quanto le mie gioie è caduto per te vabbè ne proviamo un altro sono croccanti ma non faccio sì ma quelli neri sono croccanti ma stanno di bruciato mentre quelli più piccoli forse questi ci sono troppo piccoli mi sa mentre quelli piccoli qualcuno sì qualcuno no però sono buoni mi sto seminando l'intera masticati buoni li rifarò ovviamente no ma questo tutto ci sono fine vai 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 dimenticavo siccome sono contro lo spreco di cibo quando faccio questo tipo di video tipo l'altra volta che ho fatto gli spaghetti rainbow ma tutti che me l'hanno tu e tutti un bel po' di persone mi hanno scritto ma quei bunting e spreco no li mangio cioè non è che ci ho caccato dentro li posso mangiare infatti questa sera dato che non l'avevo ancora cenato mi sto mangiando ste cacate con una filadelfia però veramente sono più come snack che come cena perché veramente mi sento la bocca cena di merda e poi meno male che mi bevo sto succo buonissimo al mandarino della Lidl della marca Solmar se lo trovate prendetelo perché tanta roba c'ha pure i pezzi non so se vedete ci sono proprio i tocchetti l'unica cosa buona di questa cena o di questa vita non lo so ora mi scrivete che non si deve bere la bottiglia come nei video dichiaro ad Alessandro la potrà bere dove cazzo vuole cioè boh non capisco ma non si meme dalla bottiglia ma uno in casa sua può anche bere dal buco del bucio del marito cioè non capisco non so cosa metterci sono secchi cioè sono buoni magari da stuzzicare così con dei ceci grossi ma c'è naci solo io veramente che cazzo ci metto ci metto un po' di salsa dressing non lo so magari gli da quel tocchetto in più o se non gli da quel tocchetto in più se non altro cago che male non mi fa vediamo con la salsa dressing com'è vediamo se fa anche un bel suono ASMR questa parte la lascerò solo ASMR com'è 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 l'autom Voi direte che sentire la ruffina fa tutti i suoni con l'acqua No, è che devo sbattere perché in fondo c'è tutta la melmetta C'è tutto il mandarino E' fredda E' buono Perché mi dico il pato dell'arancio e più Avete capito? Ah, questo è tutto E' già da ruffina Cosa? 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 Grazie a tutti.